Torna alla ribatta una questione che ha avuto tre mesi fa un'ampia risonanza nazionale. I nasi scelti entrano in azione per la missione contro i cattivi odori. Al via il pacchetto di servizi commissionati dal Comune di Arezzo per la definizione della problematica degli odori della zona di San Zeno ed intorni. Da alcuni giorni è a disposizione di tutti l'applicazione predisposta per la gestione delle segnalazioni relative alla problematica in questione. E sta per prendere avvio l'indagine olfattometrica sul territorio. La pianificazione dell'indagine ha richiesto l'addestramento specifico dei rilevatori, conferma una nota del Comune, verso un maggior numero di sorgenti distribuite sul territorio. Oltre che una maggiore estensione della griglia di misura, con la necessità di introdurre un intero turno di misura in più. Tali complessità hanno ritardato l'avvio del monitoraggio in campo. Tutto è stato aggiornato al 2 aprile, quando i rilevatori inizieranno il loro vero lavoro sul territorio. Il primo trimestre di monitoraggio sarà quello da aprile a giugno per la primavera. Mentre da luglio a settembre sarà posto sotto esame il periodo estivo.